Fino al 22 maggio nella sala incontri dell'ufficio relazioni con il pubblico del consiglio regionale la mostra dal sole e dalla pioggia, il mestiere dell'ombrellaio tra lago d'Orda e lago Maggiore. L'allestimento propone una serie di oggetti appartenenti al museo che illustrano le caratteristiche di lavorazione degli ombrelli e un gran numero di cartoline e stampe d'epoca che raccontano per immagini, storia, simboli e curiosità sul mondo del parasole e dell'ombrello dalla fine dell'Ottocento agli anni Cinquanta del Novecento. Questa esposizione organizzata dall'Ecomuseo del Lago d'Orda e Mottarone riguarda il museo dell'ombrello e del parasole di Gignese e ospita una serie di oggetti provenienti da questo museo unico in Italia che racconta la storia di questo straordinario oggetto e una parte della collezione privata di Francesco Maglia che ha contribuito all'esposizione con una serie di caricature, quadri e altre illustrazioni riguardante il tema dell'ombrello.